Non è possibile. E poi il profumo che hai. Marco, guarda, guarda. Questa è una meraviglia. No, 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 aspetti, 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 aspetti. Paolo! Paolo! Eh sì, sì. No, no, no. No, 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 vai se, sembrano piccolari. Sì, 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 sembrano, sembrano piccolari. Paolo! Ma una cosa così non mi è mai successo, no, ma li hanno seminati, ma li hanno seminati e che profumo, io non ho mai sentito un profumo del genere, ma ce ne sono talmente tanti che c'è un problema, ragazzi. Grazie a tutti.